Commenti di insegnamento Facendo lo slalom tra le gambe dei passanti Il giocare a pallone tra le gambe dei passanti è il riflesso di un grado d'evoluzione che non tiene conto del fastidio che si arreca. La loro era una passione seria. La passione per un ideale è sempre seria perché esprime la parte più elevata di noi. Nel quartiere era considerata il Brasile del pallone. Un numero sempre maggiore di persone non ne può più del gioco del calcio. Eppure continuano a vedere partite di pallone. Accade perché anche chi non è interessato a quello sport rimane legato alla media della sua gamba di sentire e ancora si crea e percepisce gli incontri di calcio. Più al gioco estroso che al gioco di squadra L'estro è un'ispirazione che proviene dai sottopiani più elevati della mente. In pochi hanno l'estro perché le persone che hanno un'evoluzione medio alta sono poche.